Si è svolta domenica 20 la festa della lingua di Sant'Antonio, basilica gremita per ricordare il ritrovamento della lingua miracolosamente incorrotta nel 1263 a 32 anni dalla sua morte quando avvenne la prima riesumazione del corpo di Antonio. Una cerimonia particolare per i devoti perché la lingua rappresenta il simbolo della predicazione del santo. Dandò infatti è stato lo suo tempo, soprattutto il santo della parola di Dio. Ha saputo non solo donare il pane ai poteri del risotto, quando avviciniamo il pane della parola di Dio a tante persone di solidarietà di montare la santo. La festa che oggi cerchiamo è che rinuniamo la festa della lingua e i mandano un prezzo a scelta quando dà un dono di un feste annunciatore del Vangelo con la vita magica di Sant'Antonio. Con la festa della lingua si rende omaggio alla reliquia più famosa di Sant'Antonio e diventa invito a diventare testimoni della parola di Dio. La lingua ben conservata dopo quasi otto secoli dalla sua morte è uno strumento silenzioso attraverso il quale Sant'Antonio continua a parlare al luogo. La lingua ben conservata dopo quasi otto secoli dalla parola di Dio a tante persone di solidarietà di Sant'Antonio. A Sant'Antonio il vostro grazie riconoscente per ciò che è per noi. La lingua nostra per chiedere perché ci ottenga il Signore e abita il cuore. Che la nostra vita sia buona perché profuma di bene, colpo e nonno. E affascinato perché pure è il suo manzetto. Amo. La processione all'interno della basilica è stata condotta dai macellai militi dell'Immacolata. Amo. 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 Amo.